Ciao ragazze! Come al solito sono Sara, e oggi vi porto nel cuore delle anticipazioni del 35esimo episodio della serie turca La Rosa della Vendetta. Vi dico solo che questo episodio è un turbinio di rivelazioni scioccanti e colpi di scene incredibili. Pronte a scoprire ogni dettaglio? L'episodio inizia con Gulcemal che scopre una verità devastante. Ibrahim gli rivela che Deva, la donna che ha sposato e che ama, è in realtà la figlia di Mustafa Pelivan, il suo nemico giurato. Intanto, anche Deva, in un momento doloroso e drammatico, scopre da Zafer che suo padre era Mustafa. Zafer non si limita a dirglielo. Le fa capire che, sposando Gulcemal, ha sposato l'uomo che ha ucciso suo padre. Per rendere tutto ancora più credibile, Zafer le consegna una vecchia lettera che sua madre aveva scritto a Mustafa. Come prova dot potete immaginare la rabbia di Deva in quel momento. È furiosa. Urla a Zafer, chiedendole come abbia potuto nascondere una verità così amara per tutto quel tempo. Si rende conto, tra le lacrime e la rabbia, di aver vissuto una vita costruita su menzogne e manipolazioni. Ma Zafer, che è fredda e calcolatrice, rimane impassibile. Dietro quella calma è evidente che sta portando avanti un piano subdolo. Distruggere la famiglia di Gulcemal, pezzo dopo pezzo e sa che questa scoperta è solo il primo passo. Resta con me fino alla fine perché scoprirai nuoci sviluppi impensabili, in queste anticipazioni di La Rosa della Vendetta. E se non vuoi perderti altri contenuti come questo, iscriviti subito al mio canale. Ed ora continuiamo. Ma Zafer non si ferma qui. Con un tono sempre più freddo, racconta a Deva che Mustafa, suo padre, non ha mai risposto alla lettera di sua madre. La donna, disperata, era arrivata in città con Deva ancora piccola per cercare Mustafa, ma lui le aveva respinte entrambe. Immaginate come si sente Deva a sentire queste parole. Pensa che Zafer stia mentendo, sente che c'è qualcosa che non quadra e sospetta che, per Zafer, la scomparsa di sua madre fosse addirittura comoda. Zafer però insiste, continuando a recitare la sua parte. Sostiene addirittura di aver aiutato la madre di Deva facendola sposare con Ibrahim per darle una casa sicura. Deva, ormai incredula, è sempre più decisa a non credere alle parole di Zafer, vedendola come l'incarnazione della menzogna. Zafer, tuttavia, non molla la presa e va ancora più a fondo. Racconta che Gulcemal non solo è colpevole della morte di Mustafa, ma anche di quella della madre di Deva. La storia che le racconta è ancora più crudele. Secondo Zafer, la madre di Deva si sarebbe tolta la vita, incapace di reggere il dolore per la morte di Mustafa, che sarebbe stato ucciso da Gulcemal. Deva, sconvolta, si ritrova piena di dubbi e domande. Come può Gulcemal, l'uomo che ama, essere coinvolto in una storia così tragica e oscura. Ragazze, ditemi voi, Zafer riuscirà a distruggere completamente la vita di Deva e Gulcemal? Ci sarà una speranza per loro? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se questo episodio vi ha lasciate senza parole e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni. Gara ascolta ogni parola di Zafer e capisce perfettamente quanto sia disposta a mentire, senza il minimo rimorso. Sa che Zafer ha sempre avuto un unico obiettivo, liberarsi di lei per poter mettere le mani sull'eredità di Mustafa Pelivan. Gara sente crescere dentro di sé la rabbia, ma non può fare nulla. Deva, intanto, è distrutta. In preda all'isteria, si siede sul pavimento e scoppia a piangere amaramente. Ogni rivelazione su suo padre e sua madre le strazia il cuore. Ma Zafer non si ferma. continua a manipolare Deva, dicendole che si sbaglia nel considerarla malvagia. Le spiega con tono finto addolorato che ha sempre cercato di aiutarla e che persino Mustafa le aveva chiesto di prendersi cura di lei. Ma è chiaro che Zafer sta recitando. Si vede benissimo che si sta godendo ogni singolo momento della sofferenza di Deva, nutrendosi del suo dolore. Mentre tutto questo succede, Ibrahim racconta a Yulcemal un pezzo doloroso del suo passato. Gli confida di aver perso sua moglie, Ipek, durante il parto. Era rimasto solo con una neonata, senza sapere come prendersi cura di lei o come andare avanti. Poi era arrivata Zafer, che gli aveva presentato Firuze, una giovane donna che potesse aiutarlo con la bambina. Ma Firuze, lo sappiamo adesso, è proprio Gara sotto il suo vecchio nome. Zafer, con la sua solita capacità manipolatrice, aveva proposto a Firuze di vivere con Ibrahim per aiutarlo a crescere sua figlia. In quella casa, Firuze, Gara, non era sola. Aveva con sé anche la piccola Deva, ma Ibrahim non sapeva che il padre di quella bambina fosse Mustafa. A questo punto, Gulcemal si chiede come mai Ibrahim non abbia mai chiesto a Firuze chi fosse il padre della bambina. Ibrahim spiega che, in realtà, aveva provato a scoprirlo, ma ogni volta Firuze evitava la conversazione, dicendo solo che suo marito era morto. Ma la rivelazione più scioccante arriva quando Ibrahim racconta a Gulcemal come ha scoperto chi fosse davvero il padre di Deva. È stata proprio Zafer a dirglielo, e Ibrahim è convinto che sia stata lei a orchestrare tutto fin dall'inizio. La perfida Zafer ha manipolato ogni situazione affinché Gulcemal si innamorasse di Deva, sapendo bene che lei era la figlia del suo peggior nemico. Con le sue azioni, Zafer ha condannato sia Deva che Gulcemal a vivere in un'eterna infelicità, una trappola dalla quale sembra impossibile uscire. Ibrahim confessa a Gulcemal che questo è il motivo per cui si era opposto al matrimonio tra lui e Deva. Sapeva bene che il loro amore, costruito su bugie e vendetta, sarebbe stato solo fonte di sofferenza. E ora Gulcemal si rende conto di essere intrappolato in un crudele gioco di Zafer, prigioniero di una vendetta perfettamente orchestrata. Ragazze, ditemi voi. Come faranno Deva e Gulcemal a uscire da questa situazione? Saranno mai liberi dalla malvagità di Zafer? Vi sta appassionando la rosa della vendetta? Lasciate un like ed iscrivetevi al canale per non perdervi nulla. Mentre Ibrahim continua a nascondere a Gulcemal la verità su Gara e Firuze, senza rivelargli Dot che sono la stessa persona, Zafer colpisce ancora. Rivolta ad Eva, è convinta che la ragazza non voglia più restare in quella casa, o continuare a essere la moglie dell'uomo che crede l'assassino dei suoi genitori. Ma è qui che Gara perde finalmente la pazienza. Scende le scale, affrontando Zafer faccia a faccia. Zafer, per un attimo, resta di sasso, poi la guarda meglio e la riconosce. La paura le riempie gli occhi. Ora sa che la sua partita è finita. Gara la chiama un vero diavolo e la maledice, facendole capire che la verità è venuta a galla. Zafer, sconvolta, si chiede come sia possibile che Gara sia sopravvissuta. Gara, vedendo il terrore sul suo volto, le annuncia che è arrivato il momento della resa dei conti. Poi, senza mezzi termini, le ordina di dire a Deva come sia morta veramente sua madre. Deva, incredula e confusa, cerca risposte da Gara, non riuscendo a capire cosa stia succedendo. Ma Zafer è colta dal panico, resa vulnerabile di fronte a una persona che pensava di aver eliminato per sempre. E, proprio in quel momento, Zafer sviene, cadendo sul divano. Gulendam, in preda al panico, corre subito verso sua madre, dimostrando che, nonostante tutto, c'è ancora amore per lei. La chiama mamma con preoccupazione. Anche Vefa si avvicina, cercando di aiutare Zafer. Intanto, Deva, ancora scossa e desiderosa di verità, insiste con Gara per sapere come conosca sua madre. Gara la guarda intensamente, senza parole, mentre il peso della rivelazione cresce. In quel momento, Ipek e Armagan rientrano a casa. Ibrahim, sorpreso di vederli, si chiede perché Armagan non sia partito per Londra. Con un sorriso, Armagan gli spiega che ha cambiato idea e ha deciso di restare. Dal volto raggiante di Ipek, Ibrahim capisce subito che tra i due c'è qualcosa di più. Finalmente si sono dichiarati i propri sentimenti. Quando Gara e Deva rimangono da sole, Deva insiste per sapere tutta la verità. Gara, col cuore in gola, comincia a chiederle perdono, chiamandola figlia. Deva, sconvolta, realizza che Gara è la sua vera madre. Le dice con rabbia che sua madre è morta molto tempo fa, ma Gara, con dolore, le spiega che non è vero. Zafer l'aveva gettata nel fiume, ma lei era sopravvissuta grazie a un pescatore che l'aveva salvata. Deva è scioccata e le intima di non toccarla. In preda all'isteria, Deva cerca di allontanarsi, ma Gara la afferra, dicendole disperatamente che ha lottato per sopravvivere solo per lei. Ma Deva, ormai sopraffatta, si libera dalla stretta di Gara e fugge, urlando che sua madre è morta e non può accettare queste parole. Gara, col cuore a pezzi, la segue, supplicandola di ascoltarla. Deva si chiude in una stanza, mentre Gara, piangendo, bussa alla porta, pregandola di aprire per poterle spiegare tutto. Dietro la porta, Deva, in lacrime, urla che Gara sta mentendo e che non può essere tornata dopo tutti quegli anni. Il dolore e il chiuto sono troppi per lei. Intanto, Ibrahim decide di rivelare ad Armagan e Ipek il motivo per cui si è opposto al matrimonio tra Deva e Gulcemal. Rivela a entrambi che ha detto a Gulcemal chi fosse il vero padre di Deva. Ipek è scioccata e inizia a litigare con Ibrahim, accusandolo di aver tenuto nascosta la verità ancora una volta. Ibrahim cerca di calmarla, spiegandole che anche lui ha scoperto da poco chi fosse davvero il padre di Deva. Armagan, curioso di sapere di più, chiede a Ibrahim quale sia il legame tra Mustafa Pelivan e Gulcemal. Ibrahim, con voce calma, spiega che Mustafa era l'accerrimo nemico di Gulcemal. Ipek non vuole crederci, ma Ibrahim, con pazienza, le conferma che Mustafa Pelivan è davvero il padre di Deva. Armagan realizza con sgomento che questo rende Deva sua sorella da parte di padre. Nel frattempo, Gara, tra le lacrime, racconta a Deva attraverso la porta chiusa che, dopo la morte di Mustafa, aveva disperatamente cercato di difendere i diritti di sua figlia. Racconta di aver incontrato Zafer, colma di odio, vicino a un lago, e di come Zafer l'avesse colpita, facendola cadere in acqua. Grazie a un miracolo, un pescatore l'aveva salvata, ma tutti la credevano morta. Gara spiega a Deva che ha dovuto nascondersi per anni, temendo che Zafer avrebbe tentato di ucciderla di nuovo. Gara le confessa che ha vissuto nell'ombra, aspettando il giorno in cui avrebbe potuto ritrovarla e raccontarle tutto. Ora è tornata, credendo di essere al sicuro sotto la protezione di Gulcemal. Ma Deva, esasperata e piena di dolore, prega Gara di smettere di parlare. Anche Gara scoppia in un pianto disperato. Nel frattempo, in ospedale, Gulendam, Mert e Vefa attendono notizie su Zafer. Quando il medico arriva, comunica che possono visitarla uno alla volta. Emrullah è il primo a entrare. Intanto, Vefa cerca di contattare Gulcemal senza successo. Gulendam, turbata dagli eventi, sospetta che Gulcemal abbia scoperto la verità su chi sia il padre di Deva. È colpita profondamente dal fatto che la moglie di suo fratello si sia rivelata essere la figlia del loro più grande nemico e si ritrova persino a provare una nuova preoccupazione per Zafer, la madre che ha odiato per anni. Vefa, osservando tutto, commenta che la furba Zafer probabilmente vivrà più a lungo di tutti. Ma Gulendam, ormai spaventata dalle tante rivelazioni, teme che ci siano ancora altri segreti pronti a emergere e a sconvolgere la loro famiglia. Mert, vedendo Gulendam così agitata, le chiede di calmarsi, preoccupato per la sua salute durante la gravidanza. Vefa, però, è convinto che ci siano ancora segreti nascosti e non riesce a capire come mai Zafer abbia reagito con così tanta paura vedendo Gara. Gulendam è incredula. Non può accettare che Gara abbia nascosto per tutto questo tempo il suo legame con Zafer. A quel punto, Mert decide di mettere tutto in chiaro e rivela a Gulendam e Vefa la verità. Gara è la vera madre di Deva. Vefa è sconvolto e trova assurdo tutto questo. Ma Mert, con tono serio, conferma di aver sentito Gara confessarlo a Ibrahim. A quel punto, Vefa realizza finalmente tutto. Quindi, in passato, Zafer ha davvero cercato di uccidere Gara. Mert annuisce, dicendo che ora i pezzi del puzzle cominciano ad avere un senso. Ma Gulendam e Vefa sono ancora scossi, incapaci di capire come Gara abbia potuto vivere con loro per anni senza dire una parola. Nel frattempo, Deva, con il cuore spezzato, raccoglie le sue cose e decide di lasciare la casa di Gulcemal. Porta con sé solo un piccolo regalo che lui le aveva fatto, l'unico ricordo che decide di conservare. Con le valigie pronte, si avvia verso l'uscita, ma Gara, disperata, cerca di fermarla, implorandola di rimanere. Deva, però, è implacabile. La guarda con disprezzo, dicendole che se è riuscita a vivere senza di lei per tutti questi anni, potrà continuare a farlo senza problemi. Gara, col cuore in pezzi, prova a fare un ultimo tentativo, dicendole che Gulcemal non la lascerà mai andare via. Questo fa infuriare Deva. Le risponde con decisione che di ciò che pensa Gulcemal non le importa più nulla, convinta che lui sapesse da tempo chi fosse suo padre. Gara, ferita, le assicura che Gulcemal non sapeva nulla, ma Deva è troppo ferita per ascoltarla. Non riesce ad accettare Gara come madre, dichiarando che per lei sua madre è morta molto tempo fa e che quella donna è sepolta nel suo cuore. Prima di uscire, le intima di non seguirla. Gara rimane ferma, devastata, e scoppia in lacrime mentre la guarda andarsene. Intanto, in ospedale, Zafer si risveglia e accanto a lei trova Emrula, che la osserva con preoccupazione. Zafer, debole ma determinata, vuole sapere chi l'abbia portata lì. Emrula le spiega che sono stati Mert e Gulendam. A poco a poco, Zafer comincia a ricordare gli ultimi eventi, inclusa la terribile scoperta che la madre di Deva è ancora viva, e ne parla con Emrula, scioccata. A casa di Ibrahim, intanto, si tiene una discussione tesa. Stanno decidendo come e quando rivelare ad Eva tutta la verità sul suo passato. Armagan, impaziente, è pronto ad andare subito da lei, ma Ibrahim preferisce aspettare fino al mattino per parlarle con calma. La sua idea è andare con Ipek e Armagan, così che possano raccontarle tutto di persona. Ma nessuno di loro sa che Zafer ha già svelato ogni cosa a Deva. All'improvviso, sentono bussare alla porta. Quando Ibrahim apre, si trova di fronte una Deva in lacrime, che gli si getta tra le braccia. Ibrahim cerca di consolarla, ma Deva, con la voce spezzata, gli chiede se è vero che suo padre era Mustafa Pelivan. Sorprendendosi, Ibrahim le chiede chi le abbia detto una cosa simile. Con dolore, Deva gli spiega che è stata Zafer a rivelarle tutto a casa di Gulcemal. La rabbia invade Ibrahim, che maledice Zafer per le sue manipolazioni, ma conferma a Deva che, sì, Mustafa è suo padre. Deva entra in casa e, con un sorriso tra le lacrime, abbraccia Armagan, rendendosi conto che è suo fratello. Cerca di trovare un lato positivo in tutto questo dolore, e dice che almeno ha trovato un fratello. Ibrahim la invita a sedersi per calmarsi. Ancora sotto shock, Deva gli confessa di capire finalmente perché lui fosse contrario al suo matrimonio con Gulcemal. Ibrahim, sospirando, le ammette che, per la prima volta, prova pena per Gulcemal, perché sa che il suo amore per lei è sincero. Eppure, a causa di tutti i giochi crudeli di Zafer, i due che hanno sofferto di più sono proprio Deva e Gulcemal, intrappolati in un amore che sembra destinato a ferirli. Deva, con il cuore a pezzi, racconta a Ibrahim di aver scoperto che sua madre è ancora viva e che è gara. Sconvolta, confessa di sentirsi perduta, incapace di immaginare come continuare a vivere con tutte queste verità emerse in un solo giorno, che le hanno completamente stravolto la vita. Ragazze, preparatevi, perché questa parte di la rosa della vendetta è un concentrato di emozioni. Ogni parola, ogni sguardo è carico di tensione e dolore. Ibrahim vuole capire come Deva abbia scoperto la verità su Gara, e lei, con voce tremante, gli racconta di quel confronto devastante tra Gara e Zafer a casa di Gulcemal. Gara, messa con le spalle al muro, non ha più potuto negare, ha ammesso di essere sua madre. Potete immaginare lo shock di Deva in quel momento, vero? Intanto, Armagan è confuso, non sa più cosa pensare. Ibrahim svela l'ultimo pezzo del puzzle. Gara è Firuze, il suo vero nome, ed è lei la madre biologica di Deva. Deva è colma di amarezza, si sente tradita e confessa di provare ormai odio per Gara. Come può accettarla come madre, sapendo che lei si è nascosta dietro Gulcemal per tutto questo tempo, preoccupandosi più per lui che per la sua stessa figlia? È un colpo al cuore, e ogni parola trasuda il dolore di una figlia abbandonata. Quando Deva racconta ad Armagan che Zafer, molti anni fa, aveva addirittura cercato di uccidere sua madre, Armagan è sconvolto. Pensava di conoscere il peggio, ma questa rivelazione lo lascia senza parole. Sapere che Zafer aveva tentato di eliminare Gara, e che ci aveva quasi riuscito. È troppo. La rabbia e l'indignazione crescono in lui, perché ora tutto il male sembra sempre riconducibile a Zafer e al suo odio spietato. Nel frattempo, Gara è nella serra, persa nei suoi pensieri, finché viene raggiunta da Vefa. Con gli occhi colmi di dolore, gli sussurra che Deva se n'è andata. Vefa la guarda, e con freddezza le dice che presto anche lei dovrà lasciare la casa di Gulcemal. Gara, disperata, gli confessa che non ha mai smesso di amare Gulcemal, Gulendam e Vefa. È proprio per questo che ha taciuto. Aveva paura di essere respinta. Quella famiglia, a modo suo, era diventata anche la sua. Ma Vefa non ha più parole di conforto per lei. Dopo un lungo silenzio, le dice con freddezza che la famiglia che un tempo c'era, ora, non esiste più. Queste parole la colpiscono come un pugno. Gara, con voce tremante, chiede a Vefa perché sia venuto da lei, immaginando che sia lì per chiederle di andarsene. Vefa, senza mostrare alcuna emozione, le risponde che non spetta a lui deciderlo. Sarà Gulcemal a stabilire se lei potrà rimanere o meno. E Vefa è certo che Gulcemal non vorrà mai tenere in casa qualcuno che ha ingannato tutti per anni. Gara, disperata, gli chiede di non rivelare nulla a Gulcemal. Vuole essere lei stessa a confessarei tutto. Intanto, lontano da casa, Gulcemal è alla scogliera, immerso nei suoi pensieri. Ricorda il momento in cui lui e Deva si erano promessi di non lasciarsi mai, di stare insieme oltre ogni ostacolo. E ora si chiede come sia possibile mantenere quella promessa, dopo tutto ciò che è successo, dopo le bugie, il dolore e il tradimento. Ragazze, il peso di questi segreti ha stravolto le vite di tutti. Non è facile uscire da questa rete di inganni. E ora è tutto nelle mani di Gulcemal. Riuscirà a perdonare o questa famiglia è davvero perduta per sempre? In quel momento, Gulcemal riceve una chiamata da Vefa. La notizia lo lascia di sasso. Deva ha lasciato la casa. Vefa gli dice che ha informazioni importanti e vorrebbe parlarne di persona. Ma Gulcemal, in un misto di rassegnazione e dolore, risponde che sa già tutto. Sa che Mustafa Pelivan è il padre di Deva e vuole capire come Vefa sia venuto a conoscenza di questa verità devastante. Vefa allora gli racconta della visita di Zafer e di come lei abbia confessato ogni cosa a Deva. Dopo quelle rivelazioni, Deva, distrutta, ha deciso di andarsene. Vefa però non si arrende e propone di riportare Deva a casa. Cerca di far ragionare Gulcemal. Gli ricorda che Deva non ha colpa, che lei non ha scelto chi fosse suo padre. Ma Gulcemal è troppo ferito, troppo confuso. Anche se sa che Deva non è colpevole, il pensiero di guardarla negli occhi, sapendo di essere responsabile della morte di suo padre, lo tormenta. Come potrà continuare a stare con lei? Vefa si offre di andare da lui per dargli supporto, ma Gulcemal, affranto, gli chiede di lasciarlo solo con i suoi pensieri. Il giorno dopo, Mert porta la colazione a Gülendam, che è ancora in ospedale, in attesa di notizie su sua madre, Zafer. Ma Gülendam, tormentata dai dubbi, rifiuta il cibo. Con un filo di voce, domanda a Mert se sarà sempre accanto a lei e al loro futuro bambino, temendo che anche lui possa stancarsi e fuggire come tutti gli uomini della sua vita. Mert, colpito e sincero, le risponde che non la lascerà mai, ma Gülendam, nonostante quelle parole rassicuranti, non riesce a liberarsi dal timore che, dopo tutto questo caos, Gulcemal allontanerà definitivamente Deva dalla loro vita. Mert, però, non sembra così sicuro. In quel momento, Emrullah arriva con una notizia inaspettata. Zafer si è svegliata e ha chiesto di vedere Gülendam. Con il cuore in tumulto, Gülendam entra nella stanza di sua madre. Zafer, ancora debole, le sorride con gratitudine e le dice quanto le è riconoscente per essere rimasta con lei tutta la notte. Ma Gülendam non riesce a trattenere le domande che le bruciano dentro. Le chiede come abbia potuto permettere il matrimonio tra Deva e Gulcemal, sapendo tutta la verità. Zafer, con un'amarezza evidente, confessa che l'ha fatto solo per ferire Gulcemal, per spezzargli il cuore e farlo soffrire, così che potesse provare ciò che lei stessa aveva vissuto quando lui le aveva portato via suo marito. Senza alcuna esitazione, Zafer ammette anche che Gaara è davvero la madre di Deva. Sconvolta da tanta franchezza, Gülendam insiste con un'altra domanda. È vero che Zafer ha tentato di uccidere Gaara? Zafer racconta la sua versione dei fatti, dicendo che, durante un confronto al lago, Gaara era caduta accidentalmente, sbattendo la testa contro una roccia. Presa dal panico, Zafer pensava che Gaara fosse morta e, in un momento di terrore, aveva deciso di gettare il suo corpo nel lago. Gülendam, con voce tagliente, le dice che ha fatto male i suoi calcoli, perché ora tutto il male che ha seminato si sta ritornando contro di lei. Zafer, cercando disperatamente di difendersi, le dice che non è una persona malvagia, che non ha mai voluto fare del male. Ma Gülendam, furiosa, le risponde senza pietà, chiamandola diavolo e incarnazione del male. Zafer non sembra scalfita da quelle parole e, con una calma glaciale, le ricorda che Armagan è rimasto in città solo grazie a lei, perché gli ha dato un motivo per restare. Gülendam, però, è sicura che, una volta scoperta tutta la verità su sua madre, anche Armagan la abbandonerà. Zafer, in preda alla disperazione, insiste che sarà lei stessa a spiegare tutto ad Armagan e che lui, come sempre, le rimarrà accanto. Ma Gülendam non le crede più. Perde il controllo e la accusa di essere la causa della sua stessa infelicità, temendo persino che il suo matrimonio con Mert sia ormai in bilico per colpa delle bugie di sua madre. Zafer, con un distacco freddo e quasi crudele, le risponde che non la lascerà mai. Ma Gülendam scuote la testa, delusa. Per lei, quelle sono solo altre bugie. È convinta che Zafer sia tornata solo per riprendersi Armagan. Zafer, ormai in un disperato tentativo, cerca di convincerla del suo amore materno. Le dice che la ama come una figlia e le propone di ricominciare tutto da capo, di costruire un nuovo rapporto. Ma Gülendam, con gli occhi pieni di rabbia e di lacrime, la guarda un'ultima volta e se ne va, lasciando Zafer da sola. Tutti? Ragazze, ditemi, cosa ne pensate di tutto questo? Credete che ci sia ancora speranza per questa famiglia? Zafer merita perdono? Scrivetemi nei commenti e fatemi sapere. Lasciate un bel like se anche voi non potete aspettare il prossimo episodio di La Rosa della Vendetta. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi neanche un colpo di scena. Io sono Sara e non vedo l'ora di ritrovarvi al prossimo video.